è che si tratta di un oggetto di uso comune che tanti di noi sicuramente hanno in casa ma che si può utilizzare anche all'esterno in altri ambiti quindi il discorso della pentola a pressione in questo caso veniva a cadere sentiamo chi c'è adesso buongiorno signora buongiorno signora che ho perso l'uomo? da Sangallo cosa mi racconta? sai quei bottoni a pressione che hanno le giacche aprire questi bottoni gli automatici come si chiamava si quelli a pressione guardi io ho una camicia con questi bottoni che faccio sentire ecco potrebbe essere un prossimo rumore vedi che è un po' diverso comunque l'ha sentito? l'ha sentito? sono riuscito a fare un sentire perfetto grazie mille prego buon pomeriggio a risentirla la quarta pronto? pronto ciao sono Lucia ciao Lucia potrebbe essere un ventilatore da soffitto regolare la velocità? regolare la velocità di un ventilatore da soffitto interessante quasi fuori stagione ormai buona giornata Lucia ci risentiamo ciao l'ultima per questa prima manche pronto? molto buongiorno buongiorno lei che mi racconta? io racconto è tirare quel metro che è fatto a rotaggio inizia alla ruota quelli che adoperano anche i geninieri per misurare la strada sa che ho capito poco o nulla di quello che mi ha detto ma non è colpa sua è la linea telefonica posso chiedere di riprenderlo per cortesia quando vuoi misurare la strada per dire si filano quel metro a rotaggio come è quello? ah quella si che è una specie di filo insomma una cosa così come lo disi che si vedono sulle strade insomma gli addetti ai lavori stradali purtroppo è sbagliata anche questa mi stia bene a risentirla buongiorno ci riproviamo nella prossima ora di effetto musica tra le 15 e le 16 in bocca al lupo adesso c'è nata l'imbruglia a walk a mile with a smile I don't know I don't care where I am but I know it's alright jumping tracks can't get back I don't know anyone around here but I'm safe this time cause when you tell me tell me tell me tell me tell me things like you do yes I have to have to have to change the rules I can't lose cause I share I just break up when I'm near it all gets out of here yes I do I get answer there's no way but I know you look scared I don't talk talk around it all who's hard when I'm down here but I'm feeling fine yeah well I should never trust you'll be there if I only stop and take more time cause if you I run run somewhere I can't get to yes I have to have to change the rules I'm with you cause I share I just break up when I prepare to turn left and you you just wait to turn left and you if I never saw you again could I kill all of those years inside cause I share I just break up when I get all inside of I get to the end the end of the scene the of the Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Now turn right Now turn right Please turn left in 200 metres onto road 16 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501